Siamo con Alessandro Mistri, direttore artistico del Gruppo dei Dieci, prende il via tutte le direzioni, questa volta in versione fall, quindi autunnale. Primo appuntamento questo venerdì, che cosa aspettarci appunto questa settimana? Come ho già avuto occasione di dire proprio a questi microfoni, siamo molto orgogliosi di questa stagione autunnale, un po' invernale, che abbiamo messo in piedi. E devo dire che questo, il primo concerto, secondo me, è una delle punte di diamante. Non c'è una punta di diamante, per me sono tutte punte di diamante, non perché sono i miei figli, diciamo, i concerti, ma perché questo è veramente un concerto da non perdere in assoluto. Abbiamo due musicisti come Simone Zanchini alla Fisarmonica e Gabriele Mirabassi a Clarinetto, che da tempo formano un duo non solo affietatissimo, ma sono due grandissimi virtuosi che però non usano il virtuosismo fine a se stesso, ma per creare della grande musica che spazia dalla jazz alla musica sudamericana, al tango, ad altre ispirazioni, alla musica classica. È un concerto da ascoltare dalla prima nota all'ultima, e poterlo fare in un bel posto come lo Spirito, per poche persone, perché il contenitore è quello che è, credo che sia un privilegio assoluto. Quei concerti che si dice, peccato non esserci stato, allora dico a tutti, piuttosto che dire peccato non esserci stato, venite ad ascoltare e sentirete una cosa meravigliosa. Allora, quindi si comincia questo venerdì, e poi, insomma, questo preludio di una stagione che andrà avanti per diversi mesi. Beh, sì, subito la settimana dopo abbiamo anche il piacere di ospitare un grande nome, oltre che un grande musicista, cioè Giacetta L'Esforo, che viene col suo sestetto, e poi ci saranno tanti altri appuntamenti, come già abbiamo annunciato, e come grazie a voi annunceremo anche volta per volta. Mi preme dire una cosa, che dato che la formula solita è quella della cena, e poi finita la cena, incomincia il concerto, quest'anno, proprio per favorire anche la presenza dei giovani di fronte a della musica di alto livello, e sono sicuro di poter dire questo, sarà possibile anche venire dopo cena, con un semplice ticket per una bibita, per bere quello che vogliono, e ascoltare soprattutto il concerto.